Certo che se uno, per assurdo, volesse fare delle domande al governo, qualche curiosità potrebbe anche togliersela, tipo, ma davvero volete un altro condono? In arrivo la pace edilizia, Salvini studia il condono, ora il condono lui lo chiama pace edilizia, invece la sanatoria delle cartelle esatoriali la chiamava pace fiscale. Tutte le volte che si avvicinano le elezioni Salvini diventa più pacifista di Gandhi. Lui non vuole vincere l'Europeno. No, ma lui non vuole vincere l'Europeno, lui vuole il Nobel per la pace. Pare che con questo condono, che questo condono riguardi solo le opere interne, però, attenzione, qualche finestra, le verande, non si sa, per ora è solo una bozza. Si sa solo che lui dice di essersi già confrontato con chiunque, dagli ingegneri agli architetti, dalle cooperative ai comuni e che sono tutti d'accordo sulla norma. Tutti, 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 tranne una, che evidentemente per lui è un optional. Fammela vedere. Condono edilizia, ne va a Meloni, non conosco la norma. No, la conosco. Ma chi cazzo è una festa sorpresa? La Meloni entra in ufficio, lui ci spente. 3, 2, 1, condono! Chi è sta roba? No! Ora, dopo tanti anni, una cosa l'abbiamo capita. Tutte le volte che qualcuno in Italia pronuncia la parola condono, cominciano a spuntare muratori dai cespugli. Spuntano come le lumache dopo la pioggia. Infatti, guarda cosa sta succedendo adesso. Va a vedere. Torna a crescere l'abusivismo edilizio. In Italia, più 9,1% non accadeva dal 2004. No, proprio dal 2004. L'anno dell'ultimo condono fatto da Berlusconi. Ma per forza, fratelli, il condono, qualche voto te lo porta, no? Ma forse non solo qualche a naso. Sembrerebbe un buttanaio di voti. Mi fai vedere. Salvini, Meloni e 4 milioni di abusi da sanare. Il condono edilizio vale una fortuna elettorale. 4 milioni di abusi da condonare. Fai una media di due persone a famiglia che devono condonare la veranda. Cazzo, sono 8 milioni di voti alle europee. È capace che Salvini ce lo ritroviamo presidente della Commissione Europea con la von der Leyen che li fa da autista. Cioè, tra l'altro, tra l'altro, credo che Salvini sia proprio in un cantiere, ragazzi. Me l'hanno detto. Sta buttando giù una tramezza. Guardatelo. Grazie a tutti.